Siamo in via Fermi dove sono iniziati dei lavori per realizzare delle caditoie all'interno della strada. Caditoie che sono finalizzate ad impedire l'allagamento dell'arteria quando piove. In questa arteria nel corso dell'anno, durante le piogge, c'è con una frequenza impressionante l'allagamento della strada. Il problema è legato alla carenta delle caditoie. Caditoie che sì esistono ma sono insufficienti per assorbire il volume d'acqua. E spesso sono intasate per mancanza di manutenzione ordinaria. Questa mattina, 26 aprile, è stata avviata l'opera che metterà fine a questo tipo di problema. Gli operai sono al lavoro, la strada è stata chiusa e l'intervento si realizzerà nel giro di tutti questi giorni. Almeno per quando si spiega. Quella caditoia che sta là, quella ragione, quella caditoia, è una di quelle che avete installato adesso o c'era già? Adesso dobbiamo fare 6 grigli e mezzo. L'acqua, quando viene di qua, dobbiamo dimorire l'acqua perché sta là che serve per far scioccolare. Quindi in effetti qua ci mettete una grata praticamente? No, una grata, sono catitoi che ogni 70 centimetri mettono una caditoia. Ah, quindi lungo tutta la strada ogni 70 centimetri mettono una caditoia. E quelle qua che ce ne mettete? Parecce? 6, 6 caditoia. 6. Che vanno, partono da qua? Va, 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 no, non va nella fogna di là perché non va nella fogna di qua. Ma le abbiamo fatte adesso noi di qua. Come l'avete realizzato più a due lunghe di a caldo? Allora, ce l'abbiamo fatte noi, possiamo vedere con un pozzetto qua. Ma qua viene, viene testato là dentro. Vi rendete un po' che d'acqua perché dici che non si arracca ne serve un po' giù. Quindi le caditoia le mettete qua? Sì, qua, 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 qua. Dove sta la tranzetta, vedete? Lungo la tranzetta dove è stato bloccato, non lungo la strada, là già ci stanno. Lungo la strada, come quello, non le fanno, non le fanno da qua, di là. Però solo per la strada di qua. E come tempo, più o meno, quanto si vorrà? Noi abbiamo quasi finito. Noi siamo un'altra ditta. Poi la ditta di là è un'altra ditta. Quindi qua avete già messo sei caritori all'interno. Adesso, adesso ci vediamo. Le completate. Come avete sentito, il lavoro è già a buon punto. E almeno per quanto riguarda questa parte iniziale della strada, il punto in cui dalla rotonda ci si mette in via fermi, il lavoro sarà completo. Probabilmente già, poi domani mattina. E qui dall'alto lago della strada ci sono gli operai incenti ad effettuare il lavoro di sistemazione delle caritori che impediranno l'allagamento della strada e di ogni visione. Il lavoro è già ben avviato, anche se abbastanza complesso, perché è necessario il posizionamento sia delle caritori che dell'inserimento dei tubi collegati alle caritori nella fogna principale. Ma quando pare il lavoro procede, ritmo serrato, e sarà concluso, troppo altrimenti, in breve. E' un po' di questo. Non lo so. Anzi, in un mese di un mese ci avessi dovuto fare. Perché dall'alto lato hanno detto che loro tutti i fatti hanno detto che lo sei carico. Sì, sì. Ok, poi invece che cosa è che dovete fare? Vado a mettere una faglia tutta? Allora, dovete fare tutta. Sì, sì, sì. La fine le medie, più avanti, non so, vorrete un po' di città, dovremmo impostare la roba. Sì, va arrivare. Sì, va arrivare. Sì, va arrivare. Sì, va arrivare alla strada. Sì, va arrivare a più di un mese. Sì, però l'acqua non è arrivare proprio. No, 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 stanno un bel uomo. Verrà realizzata quindi una condotta fognaria nuova che arriverà probabilmente fino alla scuola media ed oltre.